Siamo innamorati della linea Alberto, abbiamo visto col passare degli anni anche l'evoluzione in altri prodotti devo dire che è una linea che ci affascina, personalmente mi affascina sono rimasto estasiato della propria linea, dell'originalità Trovo che anche i prodotti esposti, soprattutto per le lavorazioni che vedo, dei mobili esposti, la qualità percepita e anche la qualità tangibile che si tocca con le mani è senz'altro un ottimo prodotto e l'azienda Alberto mi piace da questo punto di vista, trovo che ci siano dei bei prodotti Mi ha colpito molto sia il design, i colori soprattutto che usate e credo anche i materiali che si vede di ottima qualità